Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo episodio di Sms4 Cominciamo da questo momento facendo delle foto a Chiara e alla nostra Erika che è cresciuta nello scorso episodio E che in questo vedremo come gestire con la genitorialità Quindi non vedo l'ora di scoprire un po' tutto Per farlo però prima dobbiamo comprare delle robe, infatti abbiamo 2500 simoneon Perché ho venduto sempre dei prodotti dell'orto, ormai l'orto è la mia fonte di rendita Anche se mi avete detto vari modi, anzi vi ringrazio per i commenti ragazzi Ma al momento non voglio creare delle famiglie per fare dei quadri eccetera Se anche l'idea è molto molto bella direi che al momento stiamo così Intanto guadagniamo che altri 150 simoneon extra Perché qua in cucina dobbiamo mettere le cose appunto per la bambina Quindi lo facciamo, lo facciamo E prendiamo intanto un bel seggiolone Magari lo prendiamo sempre sui toni della cucina Quindi questo potrebbe anche andare bene di questo colore Direi che si abbina benissimo Prendiamo anche il vasino da mettere qua in bagno Bagno che dobbiamo anche un po' fixare Perché non è il massimo Infatti io metterei ad esempio la doccia da questa parte Metterei invece qua i due lavabi Quindi in futuro ne compreremo un altro Qua invece mettiamo il WC Così in questo modo E qua mettiamo il WC della bambina che sarà rosa Al momento direi che ci accontentiamo Mentre al primo piano facciamo la cameretta della bambina Che appunto è bella grande Perché in futuro voglio che ospiti più figli Vorrei avere almeno un altro figlio Con Chiara e Luca Infatti me lo avete anche detto Però i tempi non sono maturi ragazzi Pian piano lo faremo Lo faremo Intanto stiamo sulle tinte del rosa Quindi mettiamo tutto di questo colore Magari mettiamo qua un angolino per la bambina Quindi qua i giocattoli Possiamo mettere anche delle lampadine simpatiche Ne ho visto qualcuna da muro O meglio da terra Che mi piaceva particolarmente Vediamo un po' se la becco Eccola qua Quella con i palloncini Possiamo metterla anche qua O magari aspettate che posso spostare questo E mettere invece la lampadina Da questa parte Si direi che va meglio Mentre qua vorrei mettere anche un piccolo comò Eccolo qua che lo troviamo Sempre degli stessi colori così Direi che va bene E mettiamo qualche tenda A tema bambini Che dovrebbero essere qua E infatti eccole qua Ma le mettiamo di questo colore Quindi le mettiamo una così Una così E abbiamo fatto il piccolo angoletto Della bambina Certo è che la stanza è grande E bisogna arredarla tutta Ma al momento ci accontentiamo Ecco magari mettiamo qualcosa del genere Possiamo mettere davvero tantissime cose Per la bambina Ma visto che è ancora una bebé Direi che al momento ci va bene così Piuttosto mettere almeno una porta Perché altrimenti non possiamo entrare in camera sua E ci accontentiamo ragazzi Abbiamo ben avanzato 1394 simon Possiamo mettere la carta da parati Che potrebbe essere anche questa E mettiamo anche questo pavimento Direi che ci sta bene E possiamo mettere però Delle altre luci Ma si dai Sprechiamo di tutti questi simon Ecco Ho messo qua altre luci Magari possiamo fare davvero Un angolo Per i bebè Però interattivo Che significa questo Che intanto qua Ci possiamo mettere una bella libreria Perché no Bella colorata da questa parte Che secondo me Ci sta sempre Quindi la mettiamo magari qua Ecco Così ad angolo E possiamo anche mettere Il tavolo interattivo Dei bebè Perché appunto con la genitorialità Si possono fare tante belle cose Che ora non so bene Dove si facciano Probabilmente qua Vediamo un po' Adolescenti Adolescenti No a me serve Per bebè E dovrebbe essere questo Credo proprio di sì Quindi lo compriamo Sempre sul rosa Credo sia per bebè Aspettate che leggiamo Assolutamente no È solo per bambini Però io mi ricordavo Che c'era qualcosa Anche per i bebè Possibile che me lo sia inventato Probabilmente sì E allora ci accontentiamo Di mettere magari qualche giochino Per la bambina Quindi mettiamo il gattino Mettiamo questi Mettiamo anche il koala Perché no E direi che ci siamo Abbiamo avanzato 512 simone Direi che al momento Non mazzarderei a comprare Dell'altro Anche se la casa Ha bisogno di tante tante cose Ma ben presto le faremo Piuttosto La foto con cui abbiamo cominciato L'episodio La vorrei anche mettere Nella parete Vediamo un po' 6 7 5 7 E 1 Quindi direi che ci possiamo Anche tenere questa Che è piccola E mi piace per quello Aggiungiamo una cornice La spostiamo Un attimo Probabilmente dalla modalità Compra e costruisci però Quindi facciamo così E la mettiamo da questa parte E anche la parete Sta cominciando a prendere forma Ora Come vedete Ho intanto cambiato Un pochino gli abiti Ma non troppo alla bambina Perché mi piaceva E ha già della responsabilità In meno Quindi stiamo attenti A queste robe E cominciamo ad educarla Quindi cominciamo ad educarla Per bene Tipo Questo non si fa E quindi dobbiamo Sgridarla Credo Quindi possiamo farlo Insegna a parlare Abbraccia affettuosamente Controllo del bebè Altre scelte Cura del bebè Genitorialità Disciplina E comportamento recente Severo Calmo Risoluto Di di non combinare Un pasticcio Vediamo un po' Come va il loro rapporto Quindi vediamo un po' Ecco qua che Luca arriva Lo so che non ti piace Però per favore Ecco Più responsabilità Perfetto E intanto Fai un discorsetto Per quello che ha fatto Non vorrei però stare Troppo dietro la bambina Fai delle facce buffe Che magari Le piacciono Vediamo un po' Intanto Luca Che fa delle facce buffe Questo non me lo voglio perdere Intanto sta ancora facendo La ramanzina In tutto ciò Eccola qua Che lei si avvicina Dai facciamo delle facce buffe Vediamo un po' Se lei ci sta Ci sta Eccolo qua Sì Lei ci sta E vediamo un po' Se possiamo fare qualcos'altro Tipo insegnare a parlare O qualcos'altro Direi che possiamo fare Leggi Metti a letto Cambia abito No A questo punto no Insegna a parlare Oh bene bene Cominciamo Mentre la mamma potrebbe pulire Anche tutto questo pastrocchio A terra Grazie Fintanto che lei insegna Esatto O meglio che lei impara Scusatemi Ecco la mamma Si preoccupa di pulire il tutto Ora voglio anche capire A che ora va a lavoro Il nostro Luca Va a lavoro Fra nove ore E sarà anche promosso Probabilmente Quindi Tutto va bene Intanto la bambina Sta imparando Perfetto Sta imparando a parlare Chiara invece Viene qua a vedere La nuova stanza di bimbi E comincia Credo a riporre tutto Nella scatolina Grazie mille Chiara Per il pensiero Ma io volevo Che stessero là fuori Intanto Il nostro Luca Ha raggiunto Il livello 4 Di genitorialità E vediamo un po' Di godercelo Mentre sta qua Con la bambina Quindi assolutamente Qua scatta uno screen Beh per fortuna Però non si è ancora stancata Anzi è soddisfatta Però questa bambina Promette bene Intanto sta aumentando La comunicazione L'immaginazione Qua è a livello 2 E poi ovviamente Dobbiamo anche Cominciare a gestirla Quindi farle fare qualcosa Come salire le scale Eccetera Tutte cose che imparerà Pian piano Soprattutto quando avrà Come il vasino Quindi credo Si è arrivato il momento Di insegnare Erika Ad usare il vasino Quindi per favore Smettete un attimo Di parlare Perché il bisogno è impellente E la bambina Non può stare così Quindi cerchiamo Di farle imparare Ad usare il vasino Vediamo un po' Eccoci in bagno Ci gustiamo anche la scena Per quanto non sia Proprio una scena gustosa Da vedere Ma è sempre una bebè E quindi Ce la godiamo Mentre impara A fare tutte le cose Infatti acquisito L'avibilità di vasino Vediamo un po' Che è a livello Uno Credo che Si completi a livello tre Tutte queste abilità Come il parlare Eccetera Hanno come livello massimo Il tre Il cinque Comunque si hanno il dieci Come gli adulti Vediamo un po' Se la bambina sta bene Parole imparate Oh bene bene Dobbiamo anche insegnarle A chiedere scusa Eccetera Perché questo Aumenterà l'educazione Infatti bisogna Insegnare ai propri figli A dire per favore Grazie E dobbiamo anche insegnare Anche a dire scusa Quindi lo facciamo Vagatoli vestiti No Vediamo un po' Se c'è l'interazione Con il nostro Luca Quindi altre scelte Genitorialità Insegna a dire Per favore E grazie E infatti ci sono Tutte le interazioni Guardate un po' Che anche la nostra Chiara Viene ad assistere Alla nostra bambina Che intanto è ancora Presa con il vasino Quindi fin tanto Che lei è presa Con il vasino Io curerei tutto Quindi raccogli tutto E cura il giardino Così almeno vendiamo qualcosa E continuiamo ad arredare Anche la casa E intanto la bambina Emette delle note musicali Dal posteriore Il che promette bene Perché in realtà Da grande Probabilmente sarà Una musicista C'è chi canta con la bocca C'è chi invece Canta col culo E lo sappiamo bene tutti Ma In questo caso Potrebbe anche essere Un qualcosa di produttivo Intanto in tutto ciò Chiara Ha raggiunto il livello 9 Di giardinaggio E noi dobbiamo Insegnare a dire Per favore Grazie alla nostra bambina Quindi aspettate Che mi incastro con i muri Più educazione Più educazione per tutti Forever and ever E vediamo un po' E intanto Teniamo sotto controllo I valori caratteriali Perché voglio un po' Capire ancora Come funzionano E quindi vediamo un po' Intanto come vedete C'è la spunta Sull'educazione che sale Quindi In teoria Il rosso sarà Un breve ricordo Spero Per la nostra bambina Che è tutta bella presa Mentre impara Devo dire che essendo curiosa Probabilmente uno dei tratti Migliori per insegnare L'educazione Perché essendo curiosi Sono incuriositi da tutto Anche da un genitore Che insegna loro a parlare Quindi hanno più attenzione Si stancano Prima O meglio Si stancano di meno Rispetto agli altri bambini Che a volte Si stancano subito Non hanno voglia neanche Di sentire qualcuno Che li parla Quindi in realtà Credo che come bambina Ci darà grandi grandi soddisfazioni Erika Da grande Vedremo un po' Vedremo un po' Intanto assistiamo ancora A queste scene di genitorialità Che hanno arricchito davvero Il gameplay in maniera Assurda ragazzi Davvero The Sims 4 Si sta rivelando Un mondo a 360 gradi E la genitorialità È molto molto bella Da giocare Secondo me È un aspetto che non conoscevo E mi sto stupendo Pian piano insieme a voi Mentre la gioco Proprio adesso E guardate un po' Manca poco Perché lei impari Davvero a dire tutto E guardate un po' La barra rossa È sparita È sparita Abbiamo anche più responsabilità No Sta solo accrescendo La sua educazione In buone maniere E che non ci dispiace Piuttosto la bambina Ha sonno e ha fame Quindi io la metterei Un attimo qua Nel seggiorone E diamo il cibo Quindi metti Erika qua Va bene La mettiamo qui un attimo Intanto la nostra Chiara Sta curando tutto il giardino Ecco qua Che il nostro papà Ci mette la bambina Sul seggiorone E diamo anche Il cibo Cosa diamo alla bambina Patatine cereali Salsa di mele Biscotti a forma di animali Ma si dai La vizziamo La vizziamo È anche la prima figlia Quindi ci sta Ci sta Eccola Qua che è felice Mentre mangia E io non smetterei mai Di fare degli screen Ragazzi Beh almeno pare gradire La bambina E ci piace Ci piace Anche perché sono le 4.50 Del mattino Lui intanto Fra un po' Andrà anche al lavoro Quindi lo mandiamo Un attimo in bagno Per il resto Stanno bene Sono contento Che stiano bene Anche perché lo voglio Bello carico Perché fra 5 ore Andrà al lavoro E riceverà una promozione Che si tradurrà in simole In più per noi Saremo tutti più contenti Mentre la bambina Comincia a fare i capricci Perché ha sonno E infatti è stanca Quindi ora Spena finisce di mangiare La mamma La porta a dormire Nel suo lettuccio Eccolo qua Quindi veniamo qua E mettiamo Erika A letto Legge Erika Per farla addormentare Direi che ci può stare Ora voglio anche capire Quanto mancherà Intanto raggiunto Il livello 2 Di comunicazione Alla nostra Chiara Per terminare il tutto Perfetto Aveva finito Quindi casca proprio a fagiolo Eccola qua Che porta la bambina A letto Al secondo piano Eccolo qua Vediamo un po' Mentre legge la favola Per farla addormentare Intanto passano anche Dei camioncini Alle nostre spalle Sulla strada Eccola che si prepara A dormire La nostra piccola Erika Mentre Luca Come sta? Sta benissimo E va a lavoro Fra tre ore Intanto tutto ciò Ha raggiunto il livello 2 Di abilità Di immaginazione Credo sia dovuto Al fatto appunto Che la mamma Stava raccontando una favola Mamma che deve andare in bagno Che deve mangiare Quindi ci preoccupiamo Anche di lei Perché poverina Ha tutto il bisogno Possiamo anche mangiare Il tacos di pesce Credo che non sia andata male E fin tanto che la bambina dorme Ce ne approfittiamo Per venire qua E continuare A raccogliere un po' tutto Dal nostro giardino E anche da quelli Limitrofi Che male non fa Ed era troppo presto Per cantar vittoria Infatti la nostra sim Ci recapita 836 simoleon Di bollette Che spero di recuperare Non partecipando Ma con il lavoro di Luca Che sta bene In realtà Un pochino stanco Però purtroppo Va così Quindi vai al lavoro E per favore Lavora sodo Assolutamente E qua io dovrei far evolvere Tutte le mie fragole Che produrranno poi I fragole Un pochino migliori Quindi cara la mia Chiara Con tanta tanta pazienza So che hai fame Vieni qua e farmi Evolvere tutte le piante Per fortuna Dorme anche un bel po' La bambina Quindi è molto molto tranquilla Ora voglio un po' capire Le sue abilità Comunicazione 2 Dobbiamo assolutamente Portarla su Un po' come in movimento Dobbiamo farla camminare La nostra bambina E anche il vasino Sono le cose principali E più importanti Ma ovviamente Vorrei cercare Di massimizzare tutto E tenere sotto controllo Anche la barra Dei valori caratteriali Quindi Allevare un bambino Horace di Sims 4 Soprattutto un bebè Diventa complicato Ed è anche Molto molto piacevole Da fare Fintanto che dorme Poi va tutto bene Probabilmente Non arrederemo la casa Ma almeno Siamo in pari Con le bollette Almeno non ci staccano La luce Che è un gran risultato Ragazzi Fidatevi Per noi al momento È un grande risultato Qua però C'è tutto da buttare Quindi ripulisci Io intanto do Uno sguardo alla bambina Che ancora dorme Ora qua dentro Ho qualcosa di buono Eccellente Ah no ecco Sta già mangiando Perfetto in automatica Allora possiamo mandare Anche la mamma a dormire Credo che Si sia meritato Un po' di riposo La nostra Chiara E ora mi devo anche ricordare Che abbiamo due piani Quindi mi viene sempre Da portarla Nella stanza Che avevano prima Invece in realtà Abbiamo cambiato Tutta la casa Tutta la casa Che come vedete È ancora incompleta E che avrà bisogno Di tantissima roba Intanto la bambina Come sta Va bene Se io provo A farla andare Al piano di sotto Lei ci riesce Prova del nove Vai qui Vediamo un po' Se la bambina ci prova Non ce la fa Purtroppo ancora Non riesce E abbiamo il vasino Quindi intanto Lei ha già recuperato Il sonno Quindi puoi prendere In braccio Grazie E portarla qua A fare i suoi bisogni Perché assolutamente Li deve fare qua La bambina Quindi insegna Erika Ad usare il vasino So che sei tesa Cara mia Chiara Ma non possiamo farci nulla Fai la madre Grazie Vediamo un po' Cosa possiamo insegnarli Uh Intanto Luca è tornato Del lavoro È stato anche promosso Assistente infermiere Guadagnirà 19 simonimi più all'ora Per un totale Di 68 all'ora 384 simoni Un sghiabello medico Inquieto ingrato Ora i tavoli chirurgici A lavoro Possono essere usati Per curare pazienti Nelle condizioni più gravi Ora puoi controllare L'ardore degli altri sim Il prossimo turno Nell'uni di alle 6 Grazie mille gg E intanto Vediamo un po' Se ci hanno dato qualcosa Assolutamente Questo ce lo rivendiamo Anche per 255 simoleon Quindi va bene Va bene Direi che possiamo comprare questo Che è sempre grigio Ma almeno è nuovo E i colori della camera Mi piacciono particolarmente Abbiamo avanzato 1000 simoleon Ok Serviranno per delle tende Spero Carine Qualcosa di non troppo Eccessivo Per la loro camera Possiamo mettere anche Bianche Magari si Così Non le mettiamo Su tutte le finestre Tanto per Possiamo anche Prendere della carta D'apparati Del pavimento Visto che scarseggia Nella loro camera Allora Questo no Questo invece Mi piace ragazzi Per quanto sia Abbastanza vampiresco Secondo me Ci sta Con l'arredamento Scuro Dei mobili E anche Il battiscopa Di questo colore Quindi potremmo anche Mettere qualcosa Tendente al grigio Però si ripeterebbe Troppo Quel colore Quindi lo metterei Magari Così E però Qua ci servono Anche altre luci Con 580 simoleon Cerchiamo di comprare Delle lampadine Carine da mettere In camera Per loro Che potrebbero anche Essere Vediamo un po' 4 candele festive Non mi sembra il caso Cerchiamo qualcosa Di più adatto All'oro Potrebbero essere anche Queste Potrebbero anche Essere E mi piacciono Molto Sapete che ci stanno Molto molto bene Ma riprenderei Qualche decorazione Particolare O non Da mettere qua sopra Quindi vediamo Un po' Cosa mettere Qualcosa di carino Da mettere Nella loro camera Potrebbe essere Un bel vaso Che non ci sta A fare nulla E che costa 260 No ci resterebbero Troppi pochissimi Olion Questo è abbastanza Inquietante No non voglio mettere Niente di tutto ciò Magari ci mettiamo Direttamente Delle piantine E basta Assolutamente Quindi prendiamo Questa per 150 E credo di avere Però qua Qualcosa Legato A delle camicie Che però Non posso comprare Quindi al momento Teniamo le cose così Però almeno abbiamo Un po' arredato Ancora Le loro camere Il che va bene Stiamo procedendo bene Intanto Luce automatiche Tutte le luci Assolutamente E torniamo a vedere Un po' Cosa sta facendo La bambina Che fa la bambina Intanto è furente Perché ha fame E però ho visto Che rubava qualcosa Non lo so Non lo so Tanto lei sta cucinando Ok Però per favore Dai Dai il cibo A Erika Grazie E avevamo detto Crocchetti di pollo Per favore Grazie Potresti Ah Le stava cucinando Oh bene E allora Metti Erika qua Assolutamente Eccola qua Che la prende La mette qua nel seggiolone E per favore Erika Mangia Grazie Mentre queste Le mangia La tua madre Visto che ne ha fatto Una porzione in più E credo abbia Anche fame Non proprio Però chi se ne importa Le mangiamo Le mangiamo E poi la mandiamo In bagno E dovrebbe anche divertirsi E guardate un po' Mamma e figlia Che mangiano All'unisolo Direi che è una bella visione E intanto Dopo che mangi Raccogli tutto Per favore Chiara Anche perché E' tardi E' notte E voglio capire un po' Intanto lui ha recuperato Quindi lo mandiamo Anche in bagno Vediamo un attimo Quando va a lavoro Il nostro Luca Che dovrebbe andare a lavoro Nuovamente fra sette ore E però la promozione Ora è molto molto lontana E dobbiamo anche Tornare in ospedale Per diagnosticare La malattia di due pazienti Quindi lo faremo Lo faremo E intanto ragazzi E' passato un bel po' Di tempo Tempo nel quale I suoi bisogni Stanno andando a scatafascio E' davvero Complicato Tenere i bambini Come vedete Lei è sporca E infatti Ora che ho venduto Un po' di roba Direi che possiamo Cominciare ad arredare Anche in questo episodio Il nuovo bagno Perché ci serve Una vasca da bagno Importantissima Per lavare la bambina Quindi in realtà Che possiamo fare Io pensavo di comprare Magari questa Questa nuova Che costa 1500 Ora qua non abbiamo nulla Da vendere Vediamo un po' Un attimo Nell'inventario Della nostra chiara Abbiamo 40 fragole Che possiamo vendere Per 80 E intanto Ho chiamato Ecco qua Il giardiniere Ho chiamato il giardiniere Perché altrimenti Io non riesco a fare nulla E dovrò pagare il servizio Intanto anche il frigo È andato a scatafascio Vediamo un po' La bambina come sta Sta bene Deve solo andare in bagno Uh Sta cominciando ad utilizzare Le schiare Anche se a carponi Va bene Ora le fragole Staranno nel mio inventario Spero di sì Lo spero davvero Perché lei le sta raccogliendo Quindi non so bene Dove vanno a finire le fragole Io proverei a raccogliere tutto Lo so che Dobbiamo occuparci della bambina Ma appunto ci serve Vendere un po' di roba Quindi cerchiamo di raccogliere Tutto il possibile Raccogli ancora tutto Chiara Forza Raccogli tutto Molto bene Il giardiniere poi si occuperà Del giardino Che come vedete Ha bisogno Ha davvero bisogno Infatti se ne occupa lui E intanto la bambina Va a parlare con il giardiniere Ma io me ne approfitto Per vendere un bel po' di roba E intanto Dovrò anche riparare il frigo Per fortuna Il giardinaggio Ha dato i suoi frutti Ora abbiamo 2200 simoleon Quindi subito mettiamo La doccia che vi dicevo La faremo probabilmente A tema bambini No La faremo in bianco e nero Sapete Probabilmente potrebbe anche Essere un'idea Magari la mettiamo Da questa parte Qua invece ci mettiamo Un piccolo muretto So di non avere tantissimi simoleon Ci mettiamo ovviamente Un wc Quindi ci prendiamo Questo da 400 Ma si dai Lo mettiamo sempre Nero e bianco Si E lo dobbiamo mettere Però per forza Di cose Da questa parte Mentre qua ci servirà Il lavabo Che possiamo però acquistare E lo vorrei prendere Anche quello Sulle tinte del nero Quindi qualcosa di scuro Abbastanza scuro Che può essere questo 155 simoleon Che bastano Per uno specchio Che mettiamo Sempre nero E con 56 simoleon Non riusciremo mai A fare la carta da parati Ma ci proviamo Ci proviamo Io vorrei mettere questa Che costa 20 E ultimo tocco Piastrelle Nere E non le possiamo mettere Queste neanche Queste neanche Purtroppo Dobbiamo aspettare Di vendere qualcosa Però il bagno È pressoché fatto E ora possiamo fare Assolutamente Un bel bagno Con la schiuma La nostra erica Che necessita Da un bel poco Quindi ce ne approfittiamo Non lo possiamo fare Perché non abbiamo la porta Non abbiamo la porta Quindi Questa cosa È abbastanza Problematica Probabilmente Sì Perché non abbiamo Nessun tipo di porta Questa costa 60 Non c'è una porta Scrausa Davvero di quelle scrause No Quindi dobbiamo Per forza vendere qualcosa E allora sapete cosa ragazzi Io Sacrificherei Questa lampada Per 120 E comprerei Una nuova porta Che assolutamente Ci serve Eccola qua E ora possiamo anche fare Il bagno Con la schiuma La nostra bambina Dobbiamo anche Terminare di arredare il tutto Però stiamo andando avanti Con il bagnetto Che mi piace Per quanto sia essenziale Con un bel tappeto Secondo me E qualche dettaglio in più extra Esce anche carino Perché come vedete Qua ci possiamo mettere Delle tende Insomma Tutto ciò che serve Finalmente la bambina Però sta facendo Il suo primo bagnetto Che necessitava E soprattutto Deve andare a letto Quindi I bisogni Della piccola Erika Siamo riusciti A farli andare bene Quindi ora La rimettiamo a letto Eccola qua Che ora è bella felice Spero Lo spero davvero Risulta ancora sporca E infatti È ancora sporca Perché la bambina È ancora sporca Non lo so Non lo so Probabilmente Uh 140 Meno 90 Va bene Siamo in debito Con il giardiniere Mi dicono Guardate un po' La nostra Chiara Che guarda La sua bambina Direi che Con queste immagini Ci possiamo fermare qua Con questo episodio Stiamo cominciando a grattare la superficie con la genitorialità Intanto guardate un po' la risoluzione dei conflitti Quanto è aumentata Abbiamo anche portato sul verde tutte le barre Tranne l'empatia Stiamo anche guadagnando dei simone Continuando a coltivare Eccetera eccetera Ma nei prossimi episodi Continueremo appunto a sviluppare Far sviluppare tutte le abilità La nostra bambina Che comunque Si sta comportando bene Perché col pensiero Col vasino L'immaginazione E la comunicazione Il movimento Devo dire che si sta davvero comportando bene Con tutte le abilità Ci vorrà un bel po' Ovviamente per massimizzarle Ma cercheremo di impegnarci E portarle tutte al massimo Io però direi che per questo episodio è tutto Io spero che vi sia piaciuto E se così vi è venito a mettere un mi piace Iscrivervi al canale E farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate Sotto di me trovate il pulsante Per iscrivervi Se ancora non vi siete iscritti A altri due video Io come sempre vi do l'appuntamento Alla prossima E vi dico ciao a tutti 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 E vi dico ciao a tutti